durante la costruzione, che a voi questo progetto, a voi e ai vostri investitori possa servire potrei capirlo, ma ha un solo argomento per convincere gli abitanti di Locarno Monti e di Montebre, per convincere e per dire cosa potrebbe portare a loro a questo progetto. Questa sarebbe magari la domanda finale, con una bella risposta convincente, spero. In passavia, in passavia davanti alle nostre camere da letto, comincia dalla chiesa, comincia da in passo, dal bel vedere fino alle ultime ville che ci sono dove sono la strada per breve. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.